Grande successo a Tancareggia ad Abbasanta con lo spettacolo del cross country nella tappa circuito Mipaf di completo. Si sono disputate anche le gare del trofeo Agris di Dressage alla seconda tappa sarda della Coppa Italia Club per Poni. Tre giorni intensi con ben tre discipline e circa 150 binomi ad affollare diversi campi dell'impianto Agris di Tancareggia ad Abbasanta grazie agli eventi organizzati dall'agenzia Agris insieme alla FISE Sardegna col contributo della regione Sardegna. Spettacolare la prova di cross country che ha chiuso domenica mattina la tappa circuito Mipaf di concorso completo di equitazione. Primo periodo, progetto sport e concorso completo nazionale Elite, categoria Welcome. I 40 binomi si sono confrontati su un terreno naturale con ostacoli composti da tronchi e casette e persino un laghetto. La prova di cross country è stata sommata alle due che fanno parte del completo, il Dressage, il salto ostacoli, gare disputate sabato. Nei quattro anni in evidenza Luca Riccardi su Cica e Caramella Club, Giacomo Pisano su Cornet, Piero Pala su Ciao Sitte, Riccardo Dettori su Country Girl e Giovanni Unnis su Calidone. Nei cinque anni Salvatore Brandino ha svettato su Baschi Bara sia nel Dressage sia nel salto ostacoli, mentre Piero Pala su Bizante è andato bene in tutte e tre le prove, da segnalare anche il rendimento complessivo di Stefano Cusso su Birbone e Carlo Luriala su Bozza. Venerdì sera invece si è disputata l'etapa primo trofeo Agris di Dressage riservata ai cavalli di 4 e 5 anni nati allevati in Sardegna. Nei quattro anni doppietta di Andrea Guspini che ha vinto su Cloè e ottenuto il secondo posto con Clizia e Zapitada. Nei cinque anni successo per Filippo Secchi su Bahrain. Sabato e domenica anche due giornate dedicate alla festosa invasione dei cavalieri amazzoni giovanissimi, in tutto una novantina di binomi per la seconda tappa sarda della Coppa Italia Club.